Abbiamo naturalmente affrontato anche nel fatto scena il Presidente Putin la situazione in Ucraina. L'Italia è molto preoccupata per l'assenza di sviluppi significativi sul terreno e di evoluzioni positive sul piano politico. Riteniamo che nessuno, non la Russia, non l'Europa, né l'Ucraina, trae benficio da una situazione di prolungata instabilità al cuore del continente. Pertanto, e nell'apprezzare il ruolo rilevantissimo e prezioso dell'OSCE su quel terreno, rinnoviamo la nostra fiducia nei confronti dei sforzi negoziali del formato Normandia, in base all'accordo di Minsk, e auspichiamo che la Russia eserci tutta la propria influenza per il consolidamento del cessato il fuoco, pur in Arabia de Escalation e per la stabilizzazione del Paese, richiesta che rivolgiamo a tutti gli attori di quel teatro di crisi. Ringrazio molto il Presidente Putin per l'accoglienza, per l'amicizia dimostrata in questa visita e con la riconoscenza gli estremo molti auguri.